e salve a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati qui in questo mio nuovissimo video allora miei cari amici ragazzuoli andiamo a parlare un po' di cacciomercato breve video al volo in attesa di Italia Macedonia che giocherà questa sera sembra ormai quasi fatta per quanto riguarda la trattativa tra Elliot e Origi che l'anno prossimo molto probabilmente salvo imprevisti clamorosi sarà un nuovo giocatore rossonero e quindi andrà a completare il reparto offensivo insieme Giroud e Zlatan Ibrahimovic gli accordi prevedono un contratto di 4 anni a 4 milioni di stagione per il buon giocatore belga Origi comunque ragazzi ha 27 anni e quindi benvenga benvenga un giocatore come Origi al Milan è vero nel Liverpool forse negli ultimi anni ha giocato un pochettino troppo poco però pur sempre 27 anni ha delle doti fisiche e atletiche molto buone e molto eccellente quindi non può far altro che migliorare il reparto offensivo del Milan quindi a questo punto vediamo un attimino se anche il Gallo Belotti arriverà a parametro zero a Milan Belotti lo ha sempre dichiarato lui vuole in Milan da buon tifoso milanista vede solo in Milan l'anno prossimo si libererà col Torino anche a parametro zero e ora c'è da vedere solamente se uno esclude l'altro nel senso che se viene Origi non viene Belotti e viceversa oppure se possono arrivare tutti e due insieme contemporaneamente poi è vero c'è da vedere cosa farà il buon Zlatan Ibrahimovic a fine stagione se si ritirerà o meno però comunque per come la penso io ragazzi io sia Origi che Belotti li prenderei tutti e due subito a volo e manderei Marco Lazetich l'anno prossimo in prestito a qualche squadra di medio-bassa classifica considerando il fatto che a Milan finora chi l'ha visto Marco Lazetich chi cavolo l'ha visto ragazzi dobbiamo mandare le sue fotografie al programma di Rai3 chi l'ha visto per sapere qualche notizia di Marco Lazetich che non si sa se sta bene, se è infortunato, se può giocare non si sa un cazzo di questo giocatore ragazzi non si sa un cazzo non si sa letteralmente un cazzo comunque in estate ragazzi il mercato dei Milan io sono convinto che sarà ricco di colpi di scena perché ragazzi l'anno prossimo avremo un Milan 2.0 praticamente l'anno prossimo avremo i squadri tra gente come Pobega che ritorna dal prestito del Torino avremo i buoni Jaqin Adili che è già un giocatore del Milan che quest'anno sta giocando in prestito in Francia in Milan vuole Botman del Lille vuole anche Renato Sanchez visto che comunque che si molto probabilmente ha già l'accordo con qualche atta big d'Europa per il prossimo anno quindi ragazzi sarà un Milan 2.0 sarà un Milan che probabilmente andrà ad afforzarsi moltissimo con l'acquisto di giovani ma allo stesso tempo giocatori in grado di mettersi in luce quindi ragazzi io sono abbastanza fiducioso per quanto riguarda il mercato il calcio mercato estivo che verrà quindi ragazzi incrociamo le dita e speriamo bene anche perché soprattutto con ragazzi avete capito bene non lo voglio dire ancora non lo voglio dire ancora che con la vittoria dello Scudetto in Milan è obbligato a rinforzarsi non lo vorrei dire ma allo stesso tempo ci troviamo primi in classifica e quindi è ovvio che lo dico vaffanculo certo che lo dico la parola Scudetto in Milan con un possibile Scudetto in tasca quest'anno in estate all'obbligo il dovere di rafforzarsi perché l'anno scorso abbiamo come dire ingoiato alcuni rospic perché a me il trequartista ancora mi è rimasto qua in gola poi abbiamo dato la numero 10 a Brian Diaz e va bene che è un giocatore strepitoso anche se il Diaz post-covid purtroppo è un altro giocatore rispetto a quello che era a inizio stagione però intanto campione tanto promesso da Mardini il trequartista fortissimo che doveva arrivare l'anno scorso ancora mi è rimasto qua quindi Mardini Gazzidis Elliot a parte il fatto che con la vittoria dello Scudetto con una possibile vittoria dello Scudetto voi avete l'obbligo di rinforzarvi ma anche in caso di non Scudetto non permettetevi assolutamente di non migliorare questa fottutissima squadra scusate ragazzi ormai è in Milan è tornato da due anni quindi incrociamo le dita ragazzi e speriamo bene quindi è ovvio che da qui fino ai prossimi anni step dopo step dopo step non possiamo solo che migliorarci comunque detto ciò ragazzi il video finisce qua se il video vi è piaciuto lasciate un like dite nei commenti cosa ne pensate del calciomercato estivo che verrà in casa Milan condividete il video ragazzi iscrivetevi al mio canale youtube che è la cosa principale ragazzi è gratis e non costa nulla l'iscrizione al mio canale youtube costa solo due secondi del vostro tempo quindi iscrivetevi in massa mi raccomando ragazzi mi raccomando e soprattutto ragazzi come vi ricordo sempre in descrizione del video vi lascio anche il link del mio canale twitch dove vado costantemente in live anzi a proposito di ciò stasera su twitch sarò in live a partire dalle 8 in poi dove andremo a fare su social manager 2022 live la carriera appunto con il nostro beneamato Milan quindi se volete vedere come me la cavo nella carriera manageriale con il nostro Milan vi aspetto stasera alle 8 in poi su twitch detto ciò ragazzi vediamo come va stasera questa partita Italia Macedonia valida per per andare praticamente a Qatar a 2022 anzi se passiamo stasera dobbiamo poi farci la finale contro si presume il Portogallo perché il Portogallo vincerà la sua partita in teoria la carta dice che la finale per Qatar mondiale Qatar 2022 sarà Italia Portogallo ma come sappiamo benissimo ne caccio nulla è scontato quindi Forza Azzurdi stasera Forza Italia e noi ragazzi ci vediamo stasera nel post partita di Italia Macedonia ciao belli e passate dal mio canale twitch stasera dalle 8 in poi ragazzi mi raccomando social manager 2022 carriera manageriale Milan mi raccomando ragazzuoli ciao belli